Ricordare Luciano Pavarotti significa ricordare Modena, la sua città. E credo che dobbiamo ringraziare perché la scelta di inserire la stella alla memoria nella prestigiosa Walk of Fame di Hollywood è una scelta che dimostra che Luciano Pavarotti non è solo grande, non è solo insieme a noi, ma continua a lanciare la sua straordinaria voce il suo talento nei cinque continenti. Quindi davvero vi voglio ringraziare mi dispiace di non essere lì con voi ma stiamo lavorando molto per dare ancora voce alla tradizione di Modena, alle passioni della lirica, al suo teatro. Siete qui al teatro Luciano Pavarotti dove insieme a Mirella Freni e tanti altri si sono esibiti per portare davvero tradizione, passione, lirica, emozioni alle nostre comunità. Gli Stati Uniti erano la sua seconda realtà e quindi davvero un doppio grazie per la vostra scelta perché riteniamo davvero che Luciano è una stella e si merita una grande stella che continua a brillare lassù nel cielo e continua a mandarci grandi emozioni. Modena è orgogliosa di questa giornata e vi ringrazia di cuore, vi manda un grande, un grande abbraccio nel ricordo di Luciano e soprattutto nell'impegno per continuare a ricordarlo per lanciare ancora la lirica, per tenere insieme la passione e il futuro di una comunità che vuole vivere nel mondo in pace e che vuole vivere con la bellezza della nostra musica e dei nostri artisti. Quindi un grande abbraccio da Modena. Grazie a tutti.